See the light where the sky meets the sea, it calls me and no one knows how far it goes If the wind must sail on the sea, stays behind me, one day I'll know how far I'll go Ciao a tutti, sono Moco88, oggi siamo qui con un nuovo video in collaborazione con il negozio Fortuna Giocattoli di Milano Oggi recensisco per voi questa bellissima bambola di Vaiana o Moana, come vogliamola chiamare, del nuovissimo film Disney Oceania, l'ho visto, a me è piaciuto un sacco e spero prima o poi di potervene parlare in un video tipo il cinema che ormai ha un po' le ragnatele ma cercheremo di risproverare quel format, non vi preoccupate Vi dico subito per ricordarvelo velocemente che se andate da Fortuna Giocattoli in Via Olmetto10 a Milano potrete avere un sconto su questa bambola ovviamente dicendo che avete visto questo video Direi di passare subito a guardare la confezione Sul fondo della scatola abbiamo uno scorcio del mare e dell'isola dove vive Vaiana e c'è anche una piccola barca Qui di lato ci dice che insieme alla bambola arriva anche una clip per capelli a forma di fiore che potete mettere sia voi che la bambola Qui in basso abbiamo un bellissimo artwork di Moana in questa posizione molto fiera Qui abbiamo invece il logo del film C'è scritto che si tratta della Vaiana Adventure Doll È consigliata dai tre anni in su ed è prodotta e distribuita da Jack's Pacific Sul retro della confezione c'è questa immagine esplicativa di una bambina che gioca con la sua Vaiana e che è molto photoshopata infatti sembra che stia sprofondando nelle sabbie mobili vabbè evviva photoshop e comunque c'è il solito sfondo molto carino che sembra quasi dipinto è molto bello l'effetto Qua c'è una piccola descrizione di Vaiana che vi leggo Vaiana è una sedicenne avventurosa tenace e dal cuore tenero che va alla ricerca della propria identità ma quando la sua isola è minacciata da un'oscurità senza nome Vaiana infrange le regole e si imbarca in un'epica avventura per salvare il suo popolo e trovare la risposta alle domande che la tormentano Mentre lì c'è scritto Vai all'avventura sull'oceano con Vaiana Yeah! Qui ci mostra altri prodotti fantastici di questa linea come il set di percussioni di Vaiana con quegli esseri pucciosi ma pericolosi e qui invece abbiamo un bellissimo carillon portagioie di Vaiana Il prezzo consigliato per questa bambola è di 39,95€ Direi che possiamo toglierla dalla confezione e guardarla più da vicino Ed eccoci qua con Vaiana fuori dalla confezione in tutta la sua belità È veramente una bambola carinissima in questa versione un po' baby diciamo e mi piace molto come l'hanno fatta Per prima cosa vi devo dire che purtroppo Vaiana fa molta fatica a stare in piedi da sola Infatti ha dovuto mettere la scatola dietro perché sennò pam Quindi dovete assolutamente tenerla o metterle dietro qualcosa perché sennò non si leggerà in piedi da sola Devo dire che è veramente fatta benissimo Il suo viso ha proprio uno scat azzeccatissimo per la Vaiana baby Ed è molto somigliante devo dire Anche il colore della sua pelle è praticamente identico a quello del film Purtroppo tra il viso e il corpo è stata utilizzata una plastica leggermente diversa però non si nota tanto È abbastanza omogenea la pelle della bambola Ecco qua più da vicino il viso di Vaiana Ripeto che lo trovo veramente fatto molto bene Ha anche il suo nasino un pochettino patatoso all'insù caratteristico della protagonista del film E le sue labbra parecchio carnose che sono fatte anche queste molto bene Ha questi occhioni molto molto grandi che le danno comunque un'aria molto dolce Sono di un color nocciola Come potete vedere ha delle ciglia molto molto lunghe e folte Non penso però che si sia messa al mascara perché non credo che al suo villaggio esistano cose come trucchi o mascara Comunque vabbè ha delle ciglia molto belle e molto folte al naturale Anche le sue sopracciglia sono abbastanza spesse e sono nero scuro e sono proprio identica come ce l'ava Yana nel film Sulle labbra ha un rossetto penso A me sembra color carne o un rosa molto molto scuro Non saprei mai definire i colori dei rossetti sulle bambole perdonatemi E sulle guanciotte ha un leggero tocco di blush rosellino Ed ha pure le fossettine Ma che carina questa bambina Insomma direi che il viso di Yana è veramente ma veramente fatto bene e soprattutto somigliante Per quanto riguarda i capelli di Yana anche questi sono fatti molto bene Sono molto somiglianti alla sua folta chioma che ha nel film Qui in cima c'è leggermente un pochettino di lacca Probabilmente per mantenere la piega dei capelli tirati un po' all'indietro Ma la cosa meravigliosa dei suoi capelli è che sono veramente boccolosi al massimo Sono veramente stupendi Magari io avessi i capelli così Oh 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 che tristezza la vita Che mi ha destinato dei capelli lisci come spaghetti Comunque vabbè Lasciando perdere le mie disgrazie Sono veramente boccolosi e fatti benissimo Sono anche abbastanza morbidi L'unico piccolo tra virgolette difettuccio Che nella scatola erano legati in due ciocche E quando la togliete dalla confezione Purtroppo si nota leggermente questa separazione Infatti qua sembra che non ci abbia capelli Quindi magari se cercherete di radarli un pochettino Darete un aspetto un po' più uniforme alla sua chioma vista da dietro Quindi direi che anche per i capelli è un grandissimo thumbs up Perché sono veramente fatti benissimo Andrò dal parrucchiere dove va Vaiana E poi come vi dicevo prima Insieme a Vaiana arriva questa clip per capelli A forma di fiore di ibisco Che potete anche applicare sui vostri capelli A differenza delle altre bambole Che ultimamente scarseggiano di collane e abbracciali e quant'altro Vaiana per fortuna ha la sua collana caratteristica del film L'unica cosa è che purtroppo è scolpita e praticamente incastonata nel suo collo Comunque è veramente un dettaglio bellissimo ed azzeccatissimo È anche dipinto molto bene È anche decorata molto bene la pietra Vaiana indossa l'outfit che vediamo principalmente in quasi tutto il film Quindi ha il suo toppino e la gonna fatta di paglia In trecci, insomma non ho ben capito di che materiale per sé Il toppino è tenuto su da due elastici trasparenti E purtroppo è semplicemente una stampa sulla stoffa Però rende abbastanza bene l'idea E idem per il suo gonnellone Che sotto ha queste striscioline E sopra quest'altro pezzo In vita ha questa sottospecie di cintura Direi che comunque Anche se è stampato È fatta anche la gonna abbastanza bene È una riproduzione abbastanza fedele della gonna che ha nel film Al polso e alla caviglia Ha questo braccialettino fatto di foglie E sempre fiori di ibisco Direi che sono scolpiti veramente bene Guardate ci sono anche tutti i segnetti delle foglioline Cioè wow Sia il toppino che la sua gonna sono removibili Purtroppo ho notato solo adesso Che abbiamo queste belle scritte sulla schiena di Vaiana Che insomma potevano metterle dall'altra parte O potevano proprio non metterle Insomma stanno abbastanza male E rovinano un pochettino la bambola Però vabbè Visto che lei ha questa polta chioma Si vedrà poco Però boh Diciamo che io non le avrei messe quelle scritte lì Anche due bracciali sono removibili Parlando di snodi Vaiana ha uno snodo alla testa Abbastanza rigida però Alle spalle Purtroppo non ce l'ha alla vita Ma ce l'ha alle gambe Anche se ripeto È abbastanza rigida e statica questa bambola Non si presterà molto a grandi acrobazie in sostanza Il corpo della bambola è fatto in maniera baby diciamo Ma comunque rispecchia abbastanza la corporatura che Vaiana ha nel film Che non è la solita principessa Disney Snella Bionda e con gli occhi azzurri Ma è abbastanza robusta Muscolosa E quindi direi che anche la corporatura Ci azzecca pienamente In conclusione posso dire che trovo questa bambola di Vaiana Veramente molto graziosa È un ottimo acquisto se anche voi avete amato come me Questo nuovissimo film della Disney Vi consiglio vivamente l'acquisto di questa bambola E vi ricordo che da fortuna giocattoli In via al metto 10 potrete avere uno sconto Se direte di aver visto questo video Direi che per oggi è tutto Ci vediamo in una prossima recensione Non saprei che altro dirvi se non Stay kawaii